Questa è la partita, come sappiamo le partite sono fatte di episodi, di momenti, tu al primo tempo devi vincere minimo 2-0, non devi andare con una prestazione del genere a andare fra il primo tempo in un spogliatoio con 1-0. L'1-0 ha dato forza anche un po' al Pescara che poteva sempre recuperare la partita perché la qualità del Pescara la conosciamo, ha nelle corde DNA una qualità in avanti straordinaria. E' chiaro che siamo stati ingenui noi nei primi decimi del secondo tempo, non aggredire un po' di più, ci siamo abbassati, quando ti abbassi e non aggredisci gli avversari ti fanno gol, ma poi ti fanno gol al primo tiro in porta. Mentre noi abbiamo fatto 8 conclusioni verso la porta abbiamo fatto solo un gol, la differenza sta lì. Poi è chiaro che il Pescara comunque è un'ottima squadra, l'ha dimostrato, sta bene, però noi abbiamo fatto di tutto, soprattutto il primo tempo per chiudere la partita. Non ci siamo riusciti, l'1-1 ce lo teniamo stretti perché comunque i ragazzi solitamente sull'1-1 giocavano con un po' più paura, mentre oggi siamo stati molto più compatti, molto più in partita, dentro la partita, sperando e speravo che il secondo tempo potessimo fare qualcosa in più in avanti. Non ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, magari merito il Pescara, di merito nostro, ci prendiamo l'1-1, però ben sapendo che l'atteggiamento della squadra è giusto, la voglia di lottare c'è e quindi dipende da noi e dobbiamo essere bravi a portarla a casa questa salvezza. Riccardo, esulando un attimo dalla partita di oggi, qualche mese fa si è parlato anche di lei come allenatore del Pescara, in un periodo storico di questa stagione, c'era stato qualche contatto con la società biancazzurra nei mesi scorsi? Chiaramente avevo letto anche io, sui giornali ci sono delle voci, chiaramente Pescara è un'ottima società, è una società di valori, nel senso che anche dei buoni giocatori si può dire, in questo caso qua. È chiaro che se non c'è stato il cambio, quindi, voglio dire, significa che erano tutte parole, in questo caso qua, che sono rimaste parole. Ero a casa, è chiaro che uno si aspetta sempre una chiamata da una parte o da un'altra, è chiaro che quelle parole lì facevano piacere essere accostate al Pescara, però poi sono rimaste solo le parole. Io torno a parlare, ultima da parte mia, sulla partita. La rapidità, la qualità di Sansone ha costretto Pilon a un cambio nel primo tempo, perché per Rotta è stato andato vicino al doppio giallo. Il rammarico può essere proprio nel primo tempo, non aver dato il colpo del K.O. in quel momento della partita? Sì, ma se andiamo a vedere il primo tempo abbiamo creato molto, cioè abbiamo aggredito il Pescara, perché di solito il Pescara se lo fai giocare, come sappiamo, vengono fuori palla al piede. Nel secondo tempo non ci siamo riusciti, e allora il rammarico, come ho detto prima, è proprio di non aver fatto il 2-0, perché se tu facevi il 2-0 probabilmente la partita assumeva un altro dono, perché potevi anche prendere un gol e avevi ancora delle... Maccina ha preso il palo sull'1-1? Sì, sì, no, no, dopo l'1-1, ma infatti no, 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 io parlo fino all'1-0, perché dopo l'1-0 abbiamo accusato subito, infatti Maccina ha preso il palo, neanche a farlo apposta, e questa volta a noi è andata bene, però al primo tempo è andata bene a Pescara ben sei volte, voglio dire. Quindi l'1-1 è giusto, secondo me è giusto, anche se se tu al primo tempo chiudi la partita, secondo me poi tutto succedeva, tutto poteva parlare di altre cose, ma ripeto, il se e il ma nel calcio ce ne sono tanti. Per chiudere Di Carlo due partite al termine della stagione regolare, la trasferta di Perugia, e poi in casa con la Virtus Entella sarebbe fondamentale per voi fare risultato in terra umbra, perché poi probabilmente ci sarà un quadro più chiaro della classifica negli ultimi 90 minuti. Noi dobbiamo fare punti sia a Perugia sia con l'Entella, non è che abbiamo alternativa. È chiaro che le alternative sono quelle di poter andare a Perugia a fare una grande prestazione, dobbiamo lavorare bene in questa settimana qua a livello mentale, rimetterci a posto perché ogni partita noi spendiamo il doppio degli altri a livello mentale, però questa squadra c'è, è consapevole del momento, i ragazzi sono dentro, sappiamo che dobbiamo lottare e lottando come abbiamo fatto il primo tempo, secondo me arriveremo anche all'obiettivo. Perfetto, grazie. All'allenatore, pescare a 47 salvo, sì lo può dire agli abbracciesi. 47, secondo me manca un punto forse ancora. Uno solo? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Uno solo.